L'atleta giamaicano Usain Bolt ha detto che il suo record del mondo dei 100 metri è quasi imbattibile e che solo lui potrà riuscire ad abbassare il cronometro dei 9 secondi e 58 centesimi. Posso migliorare il mio record mondiale dei 100 metri e soprattutto quello dei 200, ha detto oggi nel corso di una visita alla città indiana di Bangalore. L'uomo più veloce del mondo si è preso una pausa dall'atletica leggera per dedicarsi ad uno degli sport che ama di più, il cricket, che praticava spesso da ragazzino quando era in Giamaica. Bolt, che più volte ha espresso il desiderio di giocare nella Indian League di cricket, ha partecipato a una partita di beneficenza al Chinaswami Stadium di Bangalore dove ha sfidato Yuvrai Singh, giocatore di cricket tra i più forti al mondo. Ha sfidato Yuvrai Singh, giocatore di cricket tra i più forti al mondo. Grazie.